Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono sempre io Giulio e questa volta volevo fare una recensione di un film che è da poco uscito in un video da una decina di giorni che è Spider- Far From Home, secondo film di questo nuovo corso Marvel-Disney sull'Uomo Ragno, va visto due anni fa oncoming e l'Uomo Ragno torna per chiudere la fase dei Marvel Cinematic Universe per quest'anno e poi l'anno prossimo sappiamo che inizierà la fase 4. Il film l'avevamo già recensito, vi metto nella descrizione il link, la recensione avevo fatto io e il mio collega Pierpaolo Bonelli, ma due parole le spendo comunque volentieri perché ad una seconda visione devo dire che il film mi è piaciuto di più, devo essere sincero comunque il homecoming l'ho trovato più bello soprattutto come struttura narrativa ma anche questo mi è piaciuto, secondo me la forma del viaggio fa perdere un po' il fascino della storia perché è un continuo spostarsi, quindi sì, succedono tante cose ma secondo me l'evoluzione dei personaggi non è così forte, anche se devo ricredermi sul discorso di misteri che io avevo un po' criticato, in realtà una seconda visione mi è piaciuto molto di più, sia da un punto di vista visivo, anzi l'aspetto visivo secondo me in questo film è grandioso, ma ancora di più in realtà come personaggio di per sé, anche se non viene spiegato tantissimo sulle sue origini, su da dove viene, ma questo fatto di usare l'illusione per manipolare le persone e soprattutto Peter Parker è fatto molto molto bene, sia visivamente ma anche come viene utilizzato per la narrazione e visto appunto una seconda volta questo aspetto mi è piaciuto molto molto di più e direi che è funzionale perfettamente a tutto quello che in realtà il film ti racconta e poi soprattutto con quelle due scene post credit che secondo me di questo film sono il colpo di Coda geniale che in realtà vedendolo io non ve le racconto, sono due, ce n'è una subito appena dopo i titoli di Coda e ce n'è una anche molto molto più avanti, la prima ci proietta, ci fa venire voglia di vedere subito un altro film di Spider-Man perché riguarda proprio Peter Parker, l'uomo ragno e la seconda invece fa una visione di ampio respiro come il Marvel Cinematic Universe ormai da dieci anni ha saputo fare, cioè racconti una cosa e allargi il cerchio, racconti una cosa e allargi ulteriormente il cerchio, questo viene fatto e secondo me è molto molto bello che sono i due colpi di Coda finale, per il resto il film, ripeto, nello spostarsi, perché Peter Parker, ovvero l'uomo ragno, decide di andare in vacanze quindi non vuole portare il costume ma alla fine la zia May glielo mette nella valigia, interpretata da la bellissima Marisa Tomei, le mette in valigia e serverà l'uomo ragno perché va a Venezia, qua incontro misterio durante uno scontro, poi da Venezia si spostano a Praga, bellissima la parte visiva di Praga per arrivare poi nel climax finale, al scontro finale a Londra dove secondo me di tutti questi spostamenti è la parte migliore, cioè quella poi parentesi che secondo me è un po' troppo stereotipata collegata a Peter Parker in Olanda, quella parte secondo me non regge tanto però il film di per sé è un discreto film, mi è piaciuto moltissimo il villain, in realtà lui cresce, capisci qual è il suo senso e come usa benissimo le sue illusioni che sono illusioni collegate anche ai media, ai social e vengono fatte anche due o tre battute secondo me molto molto attuali, molto argute, gli attori in realtà invece sono tutti molto bravi e più lo vedo più penso che Tom Holland sia perfetto come nuovo uomo ragno, dire nuovo uomo ragno forse anche un po' tardivo nel senso che da Civil War quindi dal 2016, sì 2016 che lo vediamo, al 2019 quel Peter Parker che anche l'attore Tom Holland ha fatto un'evoluzione non indifferente e secondo me se l'è cavata la grandissima sia proprio come attore sia come raffigurazione giovanile del Peter Parker che più o meno secondo me tutti o molti hanno letto durante la propria vita nei fumetti, anche se sappiamo benissimo che di Peter Parker ce ne sono tantissimi e questo aprirebbe un altro universo che evito l'unico dispiace del film è che, e non penso di essere l'unico, è quando a un certo punto si parla si parla di multiversi e lì l'acquolina in bocca mi essere tantissima perché avevo fatto anche la recensione di appunto l'altro Spider-Man, quello sempre della Sony animato, è un film potentissimo e bellissimo e allora avevo pensato, beh, mi parli di multiverso e mi colleghi con quello, invece purtroppo non è così ma è una battuta che comunque serve ad aprire scenari quindi nel complesso, ripeto, il film l'ho trovato notevole, è un discreto film che regge bene il ritmo che è molto molto spettacolare e ha un bellissimo villain per quanto riguarda invece i contenuti speciali, oh, questa è la cosa che mi piace tantissimo anche per questo faccio le recensioni a un video proprio per parlare dei contenuti extra e più ce ne sono e meglio è e nella fattispecie mi sono fatto anche un bel po' di appunti né in Spider-Man Far From Home ce ne sono veramente una marea proprio, cioè più di un'ora, anzi tipo un'ora e un quarto, un'ora e venti di anzi per il conto 6, 11, 16, 22, 30, 40, 50, 60, 70, quasi 80 minuti di contenuti extra devo dire, pensate in maniera molto giovanile, molto smart io amo più in realtà i contenuti extra dalle clip lunghe o meglio, sì, clip lunghe, filmati lunghi dove poi all'interno magari dividi il discorso, lo sviluppi, lo svisceri nei particolari però mi dai una continuità invece qua sono tantissime, ma tantissime nel tipo di una quindicina di clip ognuna specifica un argomento la media è 5-6 minuti a clip si parla esattamente di quell'argomento ma in poco tempo, secondo me, riesco a spiegare bene il lavoro che è stato fatto nella fattispecie vabbè, in realtà i contenuti extra iniziano con un corto con un corto che si chiama Cose da fare di 3 minuti in 3 minuti in cui c'è tutto anzi, non ve lo dico cosa c'è però è un bellissimo corto di 3 minuti poi ci sono ovviamente le solite gag le scene tagliate di cui ce n'è una secondo me è particolarmente bella al ristorante quando c'è la rissa con i gangster che l'uomo ragno tira fuori tutte le sue armi della sua fantastica tuta fatta da Tony Stark è una clip appunto un pezzo del film è stato tolto però si vedevano anche se non ricordo male in un trailer c'era questa clip però di altre clip significative secondo me non ce ne sono poi c'è una clip che racconta il viaggio che fa Peter Parker nei vari spostamenti quindi vari luoghi poi c'è l'evoluzione una clip sull'evoluzione del personaggio uomo ragno e Peter Parker da quando l'abbiamo visto da quando l'abbiamo visto la prima volta in Civil War fino ai giorni d'oggi di come lui è cambiato soprattutto anche sia quando entra negli Avengers sia quando perde il suo mentore Tony Stark e quindi Iron Man e quindi lui si sente cioè viene quasi e secondo me è una cosa che nel film viene spiegata bene quasi viene investito di una carica di una rappresentanza che lui forse non si sente ancora di avere o magari non si sente pronto di avere perché comunque un adolescente è come se tra virgolette concedetevi perdesse il suo genitore appunto il suo mentore Tony Stark per diventare subito più grande quando in realtà però sei ancora una ragazzina e quindi quella è una cosa molto molto delicata e secondo me il film lo spiega molto bene oltre al fatto che Tom Holland ripeto è molto molto bravo a interpretare poi c'è un'altra clip in cui vi ho detto l'evoluzione dell'uomo ragno l'evoluzione della tuta che è una di quelle clip che mi piace tanto appunto vedere anche a livello di costume di preparazione sia a livello di CGI effettistica sia a livello proprio di tuta perché nei backstage che ci sono in tutte queste clip si vede spesso i Tom Holland e Jackie Giner o con la tutina per il motion capture oppure con il costume vero e proprio e poi in post produzione viene tutto amalgamato viene tutto omogeneo e gli effetti speciali fanno un lavoro incredibile poi cos'è che c'è ve l'ho detto le armature il concetto di Avenger la sua evoluzione il personaggio misterio in breve perché sono sempre clip abbastanza veloci ma densi di materiale anche qua tipo 5-6 minuti il parallelismo tra misterio nei fumetti e misterio nel film e si fanno vedere anche come in realtà certi disegni sono stati resi animati tra virgolette nel film cioè sono stati resi perché ci sono delle vignette dove vedi misterio che si comporta in un modo e anche nel film esattamente le sue movenze il suo modo di combattere secondo me è una delle cose più belle che posso avere un cinecomics cioè riprendere e trasformare quello che è statico su carta stampata in dinamico poi cos'è che c'è il discorso del viaggio una clip sul viaggio sugli spostamenti il ragionamento che è stato fatto ovviamente in primis per una questione di economic perché il film il primo homecoming è stato un successo incredibile anche a parte in parte inaspettato ma anche come diciamo così si è voluto lavorare sui personaggi sulla storia poi c'è una clip bellissima anche questa interessante sulla strana coppia Fury Hill l'agente del Shield Fury è il capo di quello che era lo Shield l'agente Hill è il suo braccio destro che a differenza di tutti gli altri che fa notare Samuel Jackson viene chiamato Fury lei è l'unica che lo chiama Nick è una cosa molto curiosa poi che altri clip ci sono una clip ovviamente su Zia May collegata anche al primo film e sul ringiovanimento di Zia May interpretato da Marisa Tomei una clip carina su tutti gli easter eggs che ci sono in realtà nel film su tutti i riferimenti che ci sono nelle varie scritte o anche disegni o qualunque cosa che compaia proprio nel film viene spiegato perché è stato messo e chi è in riferimento di quelle ad esempio non so ci sono delle scritte a Venezia alcune piazze hanno dei nomi degli stessi autori del film della crew del film è una cosa molto carina e poi ci sono due clip più sostanziose che una è The Brother Trust che è fondamentalmente una clip di una missione di beneficenza che il film Spider-Man Far From Home evidentemente ha voluto giustamente sostenere la beneficenza per chi ne ha bisogno per chi è in difficoltà è sempre un'ottima cosa e poi una serie di scene quelle più significative in previsualizzazione ovvero fondamentalmente come le scene sono state immaginate in computer grafico con una previsualizzazione ovvero quelli che sono gli storyboard animati e poi come si vede nel film e devo dire che quello è uno dei sistemi migliori per vedere se il film funziona per vedere se la dinamica la scena come verrà probabilmente girata ha un suo senso ha una sua logica e secondo me è uno degli strumenti più importanti che bisogna utilizzare per fare del buon cinema cioè fondamentalmente tu ti vedi già un po' l'impronta del film e capisci dove devi andare a lavorare dove devi aggiungere togliere accorciare perché comunque con le clip di previsualizzazione si fa già un montaggio di massa di massa di massima e quindi questo è appunto tutto quello che c'è in Spider-Man Far From Home io in descrizione vi metto la recensione che avevamo fatto a luglio quando è uscito il film e rivederlo mi ha fatto molto piacere e devo dire che è un bel modo di finire la fase la fase 3 del Marvel Cinematic Universe spero vi sia piaciuto questa recensione io vi invito a iscrivervi al canale YouTube di CineTviland e attivare la campanella ci vediamo al prossimo video podcast o intervista o quel che sarà ciao